Dal Gran Premio di Roma nasce Roma Formula Futuro. Un programma di grandi eventi di arte, cultura, scienza, musica, danza e sport. È un progetto straordinario per lo sviluppo del nostro paese. Roma Formula Futuro, un nuovo motore per l'economia. Roma Formula Futuro, 2000 anni in pole position. Roma Formula Futuro.